C'è l'importanza di aderire a un corteo spontaneo? E' proprio per questo che tra l'altro a Piazza del Popolo, infatti la manifestazione a cui la manifestazione convergerà è proprio in Piazza del Popolo che si terrà un comizio dei esponenti di future libertà ed anche altri personaggi che proprio hanno dismesso la scuola. Sì, sostanzialmente penso che sia un segnale anche forte del disinteresse che c'è in generale nel progetto scuola e anche del caos con cui si cerca di fare degli interventi sostanzialmente di riduzione fiscale senza nessuna soluzione di continuità. Quindi penso che dobbiamo mandare un messaggio anche forte dissociandoci purtroppo anche a costo di fare una cosa a parte, separata. Grazie Alfredo!